Era lì fa, ma non finiscono che mi ha detto di venire alle 4.20 Ma veramente sconda l'acqua ai 45 di solito Quindi l'aria, poverete, era lì da... Quanto carino, ma ora è venuto qua, non si può fare le chiacchiere con me Quarto d'ora, ma c'era quel fatto Oh, vai Luca! Quanto fa le 4.20 di venire qua? Ma era ancora pieno di cuore le 4.20 Vai fuori! Bonetti, bonetti! Dai Giacomo, dai! Quindi noi attacchiamo di qua Bravo Lollo! Gioca al di là! Vai Luca! Scappa! Vero! Vai Luca! Tira! Dai! Bravo dai! Dai Giacomo! Dai Giacomo! Dai, lo chiediamo tutti in casa! No, no, sono qua con delle belle signore Mi vogliono un bello! Me ne dicono di tutti i colori, me ne dicono! Lo sai Simona che, vabbè, è successo al Ceseno, ma una mamma ha arrivato al figlio che bisogna fare... Si, è stata allontanare... E' questione di... No! Ma ha qualificato il figlio, l'ha fatto uscire dal campo e non l'ha fatto uscire per... Ma lo fai sentire... Puttana! No, vabbè! E' figlio ha ammazzato la mamma... E' figlio che il figlio, c'è... Tocco, come batturta! No, a la carne, no! Ma quello è di superiorità, la carne marina del malogo! Ma se non te lo lascio a squadra! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.